Si consumò a Sanza, 164 anni fa, una delle gloriose pagine della storia della patria, la fine della spedizione di Carlo Pisacane e dei suoi 300 giovani e forti. Un avvenimento ricordato come da tradizione anche quest'anno nella mattinata di ieri, con una cerimonia commovente e sobria, così come impone l'emergenza sanitaria da Covid. Ieri mattina dunque la comunità di Sanza si è ritrovata dinanzi il Cippo a memoria della spedizione di Sapri, per ricordare gli accadimenti del 2 luglio del 1857. La fine del sogno rivoluzionario di Carlo Pisacane, che proprio a Sanza trovò la morte, insieme al significato della libertà, sono stati al centro del breve intervento del sindaco Vittorio Esposito e del consigliere comunale Antonio Citera. Un momento importante arricchito dalla breve relazione dello storico locale il professore Felice Fusco, poi la deposizione di una corona dall'oro e il silenzio intonato dal maestro Pino Pinto. Presenti alla cerimonia il luogotenente dell'arma dei carabinieri Antonino Russo, il tenente della Polizia Municipale Vincenzo Manduca e una rappresentanza della locale sezione combattenti. Il momento commemorativo voluto dall'amministrazione sansese ha quindi celebrato un'importante pagina di storia, lì dove, presso il Cippo di Pisacane, lungo la statale 517, in località Vallone dei Diavoli, la mattina del 2 luglio 1857 avvenne lo scontro tra coloro che scamparono all'Ecidio di Padula alle mura della Certosa il giorno prima e le guardie urbane. Nel corso della cerimonia il consigliere Citera ha annunciato che a settembre ci sarà un convegno sul tema della spedizione con la presenza dei vertici della scuola militare Annunziatella di Napoli, di cui Pisacane era allievo. Il parroco Don Giuseppe Spinelli è infine concluso la celebrazione con la preghiera e la benedizione.